Stiamo slidando un po' No, no, non cadere ora Non cadere ora Hi guys, falla galera o la chicos Ciao ragazzuoli Benvenuti in un nuovo video di Alphix Di gare ragazzi Siamo in uno skill per raptor Ragazzi tutti hanno preso la massacra e robe del genere Io ho preso la raptor perchè C'era scritto di... La gara si chiama... ecco il bug La gara si chiama skill raptor Quindi ho preferito prendere la raptor Vediamo un po' se ho avuto ragione Comunque spero che il video vi piaccia Spero che... Eccole qui ragazzi il perchè il raptor Vedete? Vedete? Volevano fare i furbi loro Io ho preso la raptor anche se non ho modificato raga Ma è stabilissima su queste parti qua Queste zone qua è stabilissima Non so ora se devo andare dritto o meno Penso di no Penso di no Ah no c'è il bull ride ragazzi Che cazzo l'abbia visto? Oh cazzo ragazzi non ce la fa, non ce la fa Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa No non ce la fa Dai, 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 dai raptor Ragazzi spero veramente di fare una buona gara Vediamo un po' Ok, ok che non era difficile infatti Benissimo così Benissimo così Allora adesso Tutti, tutti si stanno mangiando le mani Con le loro auto Con le loro massacro No, 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 no No, 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 no No, no, no Porca eva ragazzi Mi sa che anche con le altre auto si può fare C'è qualcun altro con la raptor No, no, porca eva Ragazzi dobbiamo allinearci perfettamente Eh, il cazzo Dai però, dai Devo stare più concentrato raga Devo stare più concentrato Allora, allineiamoci Oh, 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 oh Oh, no, 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 no No, no Dai, 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 dai Oh, oh, no, no Ragazzi c'era quasi No, no Dritto, dai mantieni la linea Mantieni sta cazzo di linea Beh ragazzi la facciamo così Stiamo slideando un po' No, no, non cadete ora Non cadete ora Dai, dai Ragazzi Troppo sembra che non ce la fa la cosa Ok, ok, ok Sto mantenendo, sto mantenendo Ok, ok, ragazzi Ho trovato il centro, perfetto Ci siamo terzo posto Forse i primi due sono Dove devo andare? Sopra dovevo andare Cazzo raga Se facciamo una giocata del genere No Sbagliato, dovevo andare sopra Devo prendere più rincorsa raga Ok Dai giù se ce la facciamo No Porca Eva Cazzo raga Questa mi pare Una cosa Un po' fastidiosa Vediamo se ce la facciamo Vediamo se ce la facciamo Dai dai Faccelo No No Raga Prendiamo stare in corso da qui raga Vediamo se Se cambia qualcosa Ok No Non ci grido No 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 Non ci grido raga Vaffan po' la di a parco Ok ce la facciamo Vediamo un po' Vai Raptor Vai Raptor Sì Finalmente raga E ma ora? Ah ma devo fare quello Iwan Ehm Ci devo fare quel giro lì Non ho capito Non sto capendo Allora è proprio così Devo fare il giro raga Cioè devo fare Come ho fatto all'inizio Praticamente Non bisogna andare lì Bisogna fare questo Bisogna fare questa raga Oh Quasi 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 Ora c'è tutto senso Ora c'è tutto senso È un po' difficile Da comprendere Da capire Però Mi sembra figo raga Andiamo a fare Di fare questa specie di loop E E ci siamo raga Ci siamo Abbiamo preso la grande Era abbastanza difficile Da capire Devo essere onesto raga Qui c'è un rallentamento Ci sono dei scalini Praticamente Mamma mia Oh No Non ci grido Dai 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 Ok quarto posto raga C'è chi abbandona Perché Raga giustamente Qua mi sa che devo andare Piano piano raga È proprio uno skill test Questo per la raptor Ok Perfetto Ci siamo Andiamo a prendere L'altro checkpoint Ogni checkpoint è una conquista Raga Qui c'è Madonna Madonna raga Qua stiamo giocando A crash bandico Tipo O non mi ricordo Quale gioco Ok Andiamo a prendere Quest'altro Abbiamo Per forza uno Abbiamo addirittura Tre minuti di distacco Da Marco Davide Bravissimo Non so se l'ha già fatta Sta cara Ma nel caso Complimenti Perché ci ha distanziato In maniera esagerata Ok Ora Dovemmo essere Dovemmo farcela facilmente Con la nostra raptor Questi percorsi Dovemmo essere Molto più rapidi Della massacro Ok E' quasi uno skill test Per le moto raga Mi piace però Mi piace Dai 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 Ok Qui ha detto Dai vecchi pullman E qui Qui devo fare il loop No Non devo farlo Il loop Porca E ora Che parte infame Ok Ancora Ok raga Qui 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 Ah cazzo 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 No 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 Mantini di no 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 Cazzo raga È difficile Questa non è facile Stavarte Ok ci siamo Abbiamo regolato Un minuto da Marco Davide Questa è un'ottima Notizia raga Quindi possiamo Puntare almeno Al secondo Primo Quasi incastra Che cazzo Perché non ce la fa Mi piacevo E la raptor Modificata al massimo No Eccoci la facciamo Dai 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 sulla ruota Dai 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 Ok perfetto raga Ce l'abbiamo fatta Perfetto Abbiamo Quanti secondi di distacco 53 secondi raga Si erano bloccati In questa zona Qui della ruota E qui Uh bello raga Qui sono Gli ostacoli Che secondo me Chi non ha la raptor Sarà bestemmiando Bestemmerà Se mai ci arriverà Perché se no Sono ancora tutti quanti Alla prima parte Non sto accelerando Al massimo Sto dando colpetti Al acceleratore Raga Anche perché Non vorrei cadere Proprio qui Perfetto Andiamo 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 C'è il turbo E svolazziamo Proviamo anche Un front flip Perfetto Secondi raga Secondi e 32 secondi Da Marco Davide No Sono stato Un cazzone qua Vabbè cadiamo Fa niente Ripartiamo subito Sentite sto rumore Raga Ah c'è qui il traguardo Marco Davide ci sta aspettando No no vai bro vai Ah con la massacra L'ha fatto Stupendo Bravissimo No no vai tu vai 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 tu No vai tu vai tu vai tu Bravissimo Va bene così Ottima raga Spero che vi sia piaciuta Questa gara Una skill test per il raptor Ovviamente ragazzi Vi porterò altri video Fatemi sapere se vi piacciono Questi video singoli Con gare singole Questo è tutto raga Ci vediamo Alla prossima video Un bacione Alla vostra zia Affix Non dimenticatevi Di iscrivervi E di lasciare Un bel polliciotto in su Ciao raga